bello a tutti ragazzi bentornati nel dark channel io sono dark unici e benvenuti in questo terzo episodio di saints row 4 in coop con tipsa 97 ciao a tutti nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'ala dei saints completata andiamo subito alla prossima missione e vediamo cosa ci aspetta ho avuto l'achievement distruttore in capo ma che questi vestiti non sono meglio di quelli che avevo prima sai sono peggio di quelli di prima ma ci abbiamo gli occhiali datemi ma come cazzo cambino voglio morire uccidetelo abbattetelo per favore live it to the saints abbattete quest'uomo per favore perché c'è anche la pubblicità uccidetelo che camminata ragazzi che camminata non ci possiamo suicidare magari a questa acqua c'è due omacioni come marito hai capito che puttanone che chi è vero quanto sono brutto ma che ne so io ma che ne so io ma che ne so io ma non lasciate tutte la posso scoparla da qua non mi la mia moglie è una cosa che è anche la mia senti ma non posso perché non posso cambiare camminata salve salve è diventato flanders oddio quello è ned flanders spattetelo ma perché devo premere i tasti per prendere il giornale io non riesco a prendere è un giornale difficilissimo da prendere ma che cazzo vuoi ma dove sei tu dietro di te e vieni e allora fermati e aspettami ma ha fatto tutto lui non ho premuto niente aspettami io non parto vai vai ti sto aspettando con la tua camminata sali ecco e accelera con cautela e frena per fermarti agli stop comunque credo che la via principale sia da un'altra parte no tranquillo mo la raggiungiamo in qualche modo tipo adesso svoltiamo a sinistra ma non puoi andare un po più veloce e io sto accelerando al massimo questa è la macchina la sua massima accelerazione credo che a piedi avrei fatto prima non con quella camminata però con quella camminata non so però normalmente sì posso morire invece che rimanere a vivere qui avrebbe riferito farmi uccidere anche parcheggio che t'ho fatto socializziamo andiamo a socializzare ma dobbiamo farlo per forza sì ma sembriamo i fratelli messi male qua fratelli diversi avete venito a salutare il dito come cazzo ti sei fatto male ma non lo so posso farle una foto sì andiamoci a fare la foto ma perché bellissima la serranda che mi ha inquadrato che bello siamo ora di andare ah meno male qua stanno più tranquilli ma tu non ci sei nelle cazzo lo so ma che beep ahia mi sa che qua non dicono parolacce me la date un'arma ditemi che posso guidare come cazzo mi pare adesso per favore lo sto sperando anche io che beep è questo beep la macchina ma tu stai dentro la macchina così tranquillo aspettare che entro io e guido capito giustamente tra l'altro mi sei saltato addosso se non acceleri però non ci ne possiamo andare ma io stavo accelerando oh ma è un po' più veloce Kinsey che cazzo vuoi ma che cazzo ma che cazzo vabbè volevo ammazzare qualcuno però ci conviene scappare secondo me eh vabbè io vado dritto per ora certo che scappare con questa macchina non so quanto sia bello eh i grandi inseguimenti per la polizia in questo posto oddio hanno fatto un incidente come cazzo vanno a 30 allora mi spieghi come fanno a fare un incidente ma oh cazzo perchè ma ci stiamo compenetrando uno con l'altro vestiti uguali shhh oh una pistola dove sono i poliziotti abbiamo una pistola eccoli spara ah eccoli ah yeah oh vita buono posso prendere la macchina si guido io stavolta si fatto sta che devi sparare i poliziotti dove t'avvii non lo so e li posso mettere sotto i poliziotti oh oh ma qua pure la gente mi prende a cazzotti a me io io sto combattendo contro una macchina della polizia ah ah ok ho capito eh magari dammi una mano sai com'è vabbè ho capito faccio da solo dai oh ti sto aiutando ah meno male andiamo al parco con la macchina no a piedi che cosa mi stai mandando Kinzi ehm lanciarazzi ma che cazzo voglio il lanciarazzi si vai col vandalismo dobbiamo rompere le cose è un'auto bello oh devi sparare cazzo devi rompere le cose dobbiamo fare danni eh lo so è vandalismo io rompo la statua che mi ha dato il lanciarazzi ricordo di non sparare a fianco a me che abbiamo il fuoco amico eh dovrò scordare io sto sparando dall'altra parte io sto sparando agli edifici a cacchio di cane capi così oh cazzo oddio dove è arrivato questo cioè tipo superman arriva tutto figo sparategli con l'angiarazzi tu spara lì con l'angiarazzi oh 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 tanto dietro aia tanto sparali c'è quello ancora muore che 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 oh oh è morto però mi sa che quando l'ho colpito dietro di te mi sa che ho colpito anche te forse si e mi hai fatto fare anche un bel volo vabbè basta che sei ancora vivo o se si beve una coppa di vino vuota eh sarà appena finito ah dico allora tutte e due o se si oddio io No, io sono l'architettore della tua realtà Io costruisco ciò che voglio Io distrullo ciò che voglio E il tuo bravado Significa No, è il nostro negozio Bastardo Che cazzo è? Ah No Che faccia di cazzo che c'hai? Eh, infatti Di cosa vuoi parlare? Se poi ti ho distruggito il tuo minuto pianeta, addio E mi distruggito il tuo minuto pianeta TTF Nooo Lavoro all'esterno Ma pure Ah, hai capito Il Presidente degli Stati Uniti Beh, questo almeno abbiamo una sicurezza che non ci devono ammazzare Beh, ma a sto punto sarebbe meglio morire Ma qual è morire? Che dopo dobbiamo uccidere questo Questo E.T. Sì, sì Però dico in questo momento Prima di uccidere lo facciamo E.T. Telefono Casa Una bella giornata Ok ragazzi Anche questo video finisce qua Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivere e commentare E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti E noi ci vediamo in un prossimo video